Siamo sul Sella Ronda, abbiamo fatto svegliataccia e questa è dove siamo adesso. Siamo a meno 20, meno 25, rifugiati in questa baida, a terci il tè, un rifugio di 10 anni. Sì, 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 sì. Eccoci, siamo pronti per lo svizzino. Raga, oggi è perfetta! Metti il destro, metti il destro! Appoggi poco, appoggia! Grazie! 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 Grazie!